No, Matteo! Perché? No! Aiuto, aiuto! Ciao a tutti dal vostro, caro Max Random! Ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite Perché? Ascoltatemi bene Perché, raga, vi ricordate il mio amico Vincenzo? Ma certo che vi ricordate, ma certo come fate a dimenticarvi? Oggi tornerà a casa mia E sapete che cosa vuole fare? Ha detto che ha trovato un glitch Per avere le skin gratis su Fortnite Io sinceramente non è che ci credo molto Però, noi facciamo finta di crederci Ed è per questo, ragazzi Che essendo che non esistono glitch per avere le skin gratis Io ho preparato un bel scherzetto Infatti, ho creato una specie di video Mentre ero nel suo account Che a un certo punto c'era un caricamento E lo faceva bannare Ho creato una scritta con il ban, ragazzi Poi mi inventerò qualche momento Magari lo farò andare via dalla stanza E metterò questo caricamento Lui tornerà e vedrà il caricamento E vedrà il suo ban Però, per questo video bisogna assolutamente arrivare Almeno, e dico almeno A 15.000 Mi piace Gli ho chiesto soltanto Una o due volte Per dei video veramente assurdi E questo, secondo me Mi ha all'altezza Quindi, ragazzi Spolliciate Tutti come non l'avete mai fatto mai Poi vi ricordo di seguirmi Tutti quanti su Instagram Max Random E di andare nel negozio oggetti E di inserire Mr-Max Random Siamo quasi a 5.000 supportatori Dai che ci arriviamo Dai che ce la facciamo Ok, 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 ok Adesso io ho saputo dire di aspettarlo Perché lui ancora deve venire a casa Quindi lo aspettiamo E appena viene Ci vorrà vedere il tutto Ragazzi Siamo qui Con il nostro amico Vincenzo Che dice Di aver trovato Un metodo infallibile Per avere le skin gratis Su Fortnite Adesso ce lo spiegherà Vediamo che cosa dice Allora In poche parole C'è uno youtuber americano Che Diciamo Fa questi video In cui Dice che queste skin Sono gratis E metti dei codici Nei commenti Della lobby Addirittura Sì Quindi tipo Ma dove Dove lo mettiamo Sto codice Qui E commenti Commenti Ah qua E qua Metti i codici Ok Però non lo faremo subito Perché prima Ci andiamo a fare Una partitozza O giù Ho sbaglio Una bella partitozza Secondo me Non è male Quindi andiamo già a fare Questa partita Per questo video Vi devo assolutamente Raggiungere 15.000 like E dopo faremo Questo assurdo Glish Per tutte le skin gratis Ma tutte Sì Tutte quante Addirittura Tutte Tu ti provai Qua Gratis Perché Ascono gratis Quindi Ma pure Quelle domani Dovano tutti i giorni Sì Sì Ah madonna Io sinceramente Allora io ti dico la verità Perché ma noi Dobbiamo parlarci Seriamente Io non ci credo Molto Perché non mi credi Lasciamo Sarvi Perché non ho banato Tre volte Quattro volte Però quelli sono dettagli C'è un rischio C'è un rischio di ballo Sì Però Ed è proprio per questo Che lo facciamo Sul tuo account Perché io sinceramente Di rischiare sul mio account Non ci tengo Allora dove vogliamo andare Dove vogliamo andare Opterei per un land letali Dai 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 Un bel landine Ci sta un bel landine Allora io ho paura Di giocare questa partita Perché sono leggermente Storto Perché Essendoci pure tu Non riesco Sono tipo tutto Oh bella Bella fra Sta a posto Come va la vita È mortissimo Voraccio Mi dispiace un pochino Per lui Ma non sa che noi a breve Avremo tutte le skin Di questo gioco Sì Diventeremo ricchi Sì Ah ragazzi E poi commentate Tutti quanti Qua sotto nei commenti Con Ci crediamo Perché noi tutti quanti Ci fidiamo di Vincenzo E sappiamo Che questo glitch Funzionerà Quindi commentate Tutti quanti Con ci crediamo Eh no Non so se c'è tempo Perché io qui Non vedo Ci sta affaitando Mi butto la pusolente Lui si sta facendo Molto male Lui scappa Scappa dietro È una specie di cadavere Diciamo Ok Cerchiamo di andare Cerchiamo di andare Eccolo Allee Allee Prendiamoci il pump Del Nuenno Ah che è più forte Io ho sfidato L'Inzio Ho vinto Mi sta pushando Va bene E va bene Adesso quindi Abbiamo deciso Di fare questo Famigerato glitch Dica Ci dica Commenti Ok Commenti E poi dobbiamo andare No bug No commento Commento Ok Oggetto Skin gratis Skin minuscolo Si 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 E' attaccato Allora vince detta Melo perché Allora 89 89 Trattino alto 275 275 Trattino sempre alto Eh 44 Sì 27 Trattino No no Attaccato 27 Ok Ma sei sicuro Dovrebbe Dovrebbe Allora Ma noi andiamo nel negozio E dovrebbe uscirci Tutte le skin Con 0 vbac E quindi io potrei Acquistarle gratis Addirittura Va bene Allora vediamo Inviamo Eh Infatti bisogna Prima fare una partita Perché Potrebbe Ricaricarsi Lo shop Allora ragazzi Cerchiamo Di andare Verso Corso Commercioso Corso Commercioso Ok Andiamo a Corso Commercioso Però voglio Che fai Almeno Kill Belle Almeno Almeno Tre kill Dei farci Voglio Ricordarvi Che sono Controller Dell'Xbox 360 Vi ricordo Che il nostro Vincenzo Ha anche Un canale YouTube Ve lo lascio Qua sotto In descrizione Ragazzi Scrivetevi Siete brutta Persona Ma adesso C'è da posto Schifoso E intanto T'ha giocato Ma no Mamma mia Intanto Ti ho giocato Niente Scherzavo Mitraglietta Tattica Buono Buono Questa è So good Mitraglietta Tattica Oh Già una kill Questo qua L'hai baitato Mi è piaciuto Che facevi così Non lo prendevi Hai Junkrift Shieldone Ma sto schifo Di acerato Ma a me Mi piace proprio Oh Là Là Boxato Oh Shit Questo ti va a cadere E ti piazza Vinciai Vinciai Prendi quella trappola Prendi quella trappola La butti sul muro Gli ripresi Il muro Vincenzo I materiali Vinciai 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 Mitraglietta Vinciai Mitraglietta Sì fu sto controller Guarda questo è scarso E niente Eh Sono andato con il bagno Max Va bene Tieni Ok ragazzi È andato in bagno Adesso Vi farò vedere Che non ho ancora Quitato E li mettiamo Subitissimamente Ragazzi guardate Questa qui è la clip Incriminata Non è la perfezione Del clip Però qui c'è il caricamento Che ti fa tornare Alla lobby E il lobby ci sarà scritto Se è stato bannato Per un abuso di glitch Di skin gratis Ecco qua You have been banned For one day From the fortnite From fortnite For glitch use You don't abuse it anymore From the fortnite team Raga L'ho fatto col traduttore In tre secondi Quindi se c'è qualche errore In inglese Non è colpa mia Adesso bisogna aspettare Che torna Vincenzo E vi farò vedere Dal caricamento Allora Vincenzo Io c'è stato un piccolo problema Ma non so se è normale Ma mentre io stavo aspettando Senza che cliccassi il tasto Per quittare Mi ha abbandonato da solo E mi fa il caricamento Non è una cosa normale Vincenzo You have banned For one day In fortnite for glitch use No Matt No No Matt Quello americano Ti ho bannato Vincenzo No Matt Quello schifoso americano Ci ha bannati Oh cacchio No ma Ma dai Ma che cacchio No Matt Ma se mi chiude dentro L'armaggio Perché Vincenzo Vincenzo No dai Ma io non ci credo Questi glitch inutili Ma almeno secondo te Te li hanno dato qualche skin gratis No Se esce questo Ti ho bannato niente Tu quando è che devi andare a fare Il torneo da Sanlan Domani Perché Perché Lo schifoso Ma dai ma lo stavo aspettando Da due mesi Guarda qua Guarda qua Cosa Non mi dire che Siamo su scherzi a parte No Aiuto 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 Questo Buon bacio Raga L'abbiamo fatto Cagliare sotto Lì veramente Domani C'era il torneo Ragazzi Io da Matteo Non ci vengo più Noi ci vediamo Prossimamente Con un nuovissimo video Da Max E Vincenzo Ciao È tutto Però potresti anche venire Da Max E Vincenzo È tutto Andate ad iscrivervi al suo canale Noi ci vediamo Prossimamente Con un nuovissimo video Un nuovissimo live 15.000 like Ciao ragazzi Bye Non potete evitare Eh Non ti lascio sola Bella Topolona Mamma mia Quanto sei Buona Io canto A squarciagola Per la mia Topolona Vieni qui Rispondi Ora La 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 la